Buongiorno dottore, sono qui da lei perché mi deve salvare dalle maniglie dell'amore. Ecco qua. Non è facile, non è facile, non è facile, lo teniamo così. Ok, troppo simpatico. Allora, sono passati due anni, non si ricordava quasi più le sue maniglie dell'amore, giusto? No. Quindi abbiamo ripescato le foto di due anni prima, noi abbiamo fatto la liposuzione con l'idea di andare a togliere le maniglie dell'amore, come ha chiamato lui, c'è questo accumulo di tessuto di poso nei fianchi, e sicuramente anche ridare un pochettino di forma dell'addome. Ci vediamo, c'è stato il lockdown, lui si dice che non ha fatto quello che doveva fare, non è ancora soddisfatto completamente, ma tenetevi veramente questa immagine perché saltiamo a vedere il risultato a due anni. Eccoci qua. Trac, il risultato a due anni, ci giriamo. Come vedete le maniglie dell'amore non ci sono più. Non ci sono più, anzi, cerchiamo anche le piccole cicatrici, non si vedono, non si vede praticamente nulla di cicatrici particolari, quindi quello che succede è anche questo, che sappiamo davanti. Quello che succede è che questo tipo di intervento chirurgico non dà cicatrici importanti, cerchiamo pure, non vedete che non se ne vedono. Quindi direi un risultato molto buono, si può fare di meglio, ma questo attraverso lo sport, ancora, come dire, ci potrà ancora lavorare, ma il risultato è stabile nel tempo a due anni. Come tutti i nostri pazienti, chiediamo se lui è rimasto contento di fare il nostro solito gesto. doppio, un caro saluto a tutti.